come prepararsi un mojito senza alcol in due minuti e sì sì lo so adesso so quello che state pensato ma come è un canale per i cagnolini e ora tu ci fai vedere come si fa un mojito avete ragione allora ho partecipato una serata ieri sera c'era una festa e c'era la dimostrazione di come si fa un mojito e potevano filmare ma certo quello filmato così mi sono preparata il mio mojito personalizzato semplice e senza alcol qui bisogna mettere più o meno una decina di pezzetti di limone è quello che mi hanno detto io ne ho messi insomma ho riambito mezzo bicchiere dopo due da uno a due cucchiaini di zucchero di canna preferibilmente il zucchero di canna ma c'è chi può mettere anche il zucchero normale io ne ho messi due visto che non metto l'alcol preferisco mettere due poi delle foglie di menta e schiacciare il tutto come sta facendo qui il signore si schiaccia dopo una bella mangiata di ghiaccio tritato ci aggiungiamo l'acqua ed ecco qui il nostro mojito personalizzato e ora adesso io lo bevo alla vostra salute cin cin ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E per questioni di copyright vi lascio sottofondo la musica presa sull'applicazione CapCut togliendo l'originale. Se non corrispondono i passi è perché giustamente non è la stessa musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacio da me, Cocco e Lilla che non ci sono stavolta con me. Dove si possono svolgere diverse attività. Infatti Macaronvani ti dà la possibilità di conoscere altre persone in presidenziale senza passare dai siti. Per di più è gratis. Si pagano solo le uscite e le attività. Per di più dietro a questo sito c'è una persona che se ne occupa di tutto. Infatti lei sta facendo un bellissimo lavoro perché seleziona le persone a seconda dell'età, nazionalità. Guarda, neanche a farla apposta. Io sono capitata vicino a un tavolo dove già quattro persone di quel tavolo avevano cani. Sarà una coincidenza? Non lo so. Comunque io ho dato le mie carte da visita per fare pubblicità di alimenti. Infatti dal 2010 Macaronvani propone uscite molto interessanti. A tutti coloro che desiderano incontrarsi in un modo più reale e intelligente. Inoltre Macaronvani ti propone anche di costruire nuove amicizie. Fare attività varie e diversi in diversi posti meravigliosi. E persino andare in vacanza insieme di gruppo. Incredibile, vero? Per partecipare bisogna semplicemente riempire un formulario di contatto. Poi si riceve un link di partecipazione e si può scegliere l'attività che vogliamo. Tutto qua, senza impegno e nessun abbonamento mensile. Ok, allora con questo io concludo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I can tell by your eyes That you've probably been crying forever